Come vede il suo personaggio? Come Medea. Si considera una Medea perfetta? Non mi considero mai perfetta. Vivo ogni due o tre mesi qualche posto. Vivo a Monte Carlo. Lei ha rinunciato alla nazionalità americana. Adesso con che passaporto viaggia? Greco. Greco. Ci consentono domande indiscreta? No, non gliela consento. Una sola. Non gliela risponderò. No, non gliela risponderò. No, non gliela risponderò. No, non gliela risponderò. Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.